Diciamo che Mi Group è una società, un gruppo di aziende che nasce con una storia di 25 anni e che oggi si pone sul mercato internazionale con delle partnership molto importanti, con altre aziende che partecipano a comporre questo gruppo, questo Mi Group. Siamo un'azienda che spazia nel mercato lattiero caseario, andando a coprire tutto il segmento di prodotti che partono dal burro fino ad arrivare al prodotto finito, la mozzarella. In Fiera noi abbiamo con molto piacere qui al Marca, andiamo a presentare te nuovi prodotti e un accordo raggiunto con alcuni partner per implementare l'assottimento. Oggi noi presentiamo in alteprima mondiale, dopo averlo presentato a settembre a Parigi, lo presentiamo in Italia, il primo e unico latte da bere di bufala. Presentiamo un formaggio, il gramellino, che è un formaggio duro per grattugia destinato a tutte le facce di consumatori che è del tipo con esigenze alimentari molto particolari, in quanto il formaggio è senza lattoglio, gluten free ed è adatto anche per il consumo vegetariano. Mentre il terzo prodotto che andiamo a presentare, ed è un prodotto molto importante per noi, che rappresenta il core business, è la mozzarella che produciamo nel nostro caseificio. Ma la caratteristica principale di questo prodotto è che non è un prodotto standard, ma è un prodotto tailor made, costruito sulla base delle esigenze del nostro cliente. Queste sono un po' le tre dovità importanti. A seguire abbiamo, non perché meno importanti, ma sono in ordine, abbiamo la partnership siglata con il caseificio Brizzi, importante azienda calabrese, che opera sempre nel settore caseario, e con il burrificio Sorrentino Rosanna, al quale produce burro ottenuto dalle panne della nostra lavorazione. Questo un po' ci aiuta a far crescere e a aumentare la proposta sul mercato. Abbiamo siglato anche un accordo in questi giorni molto importante con un partner turco, dove abbiamo costituito una nuova società, la Megame, che è formata dal 50% della Mi Group e dal 50% dal più grosso produttore caseario turco. Questo perché la nostra intenzione, nei prossimi passaggi, è di presentarsi ai mercati orientali e ai mercati arabi. E chi meglio di un partner di istruzione di alta nazione, più vicina a più mercati, potevamo trovare. Questo è quello che oggi siamo e quello che stiamo facendo. Siamo un'azienda giovane, composta da gente giovane, da ragazzi giovani, da giovani manager motivati, che operano in modo autonomo, in quanto la nostra organizzazione è un'organizzazione trasversale. Quindi ogni manager che fa parte della nostra azienda lavora in autonomia sui progetti, sia su clienti che su progetti. Oltre a questo, abbiamo anche nel nostro organico il dottor Provenzano, persona di riferimento, sia per esperienza che per cultura e per formazione, che gestisce il caseificio di nostra proprietà in Romania. Il latte di Bufala è un latte di sé per sé proteico, un latte che per caratteristiche organolettiche si va a inserire nel mercato, nei consumi dei prodotti proteici. Non è un prodotto trattato, è un proteico naturale, che contiene il 66% in più di proteine, il 30% di calcio e il 36% di fosforo. Quindi diciamo che, oltre a un gusto molto piacevole e dolce, continuamente a quello che si può pensare, è un prodotto altamente salutistico. Alli sportivi, ai bambini, alle famiglie, agli anziani, oggi copre tutte le possibili esigenze del consumatore tipo italiano. Come potete vedere, la Mi Group è formata da giovani manager che mettono in campo la loro esperienza, ma anche le loro giovani idee. Oltretutto abbiamo il dottor Provenzano, che ci fa da guida in questo fantastico mondo, che è quello del latte e dei prodotti caseari. Che c'è la gratte vicine? Eh no, c'è la mozzarella, la mozzarella che si produce noi, e figuriamoci se è gratto e vinto.